Amici, qua il Master del Futuro che vi parla per dirvi che oggi, ovvero venerdì, alle ore 3, mi troverete online su Fortnite per registrare il secondo speciale che è appunto dedicato a Fortnite, ovviamente, era ovvio, non c'era neanche bisogno di dirlo. Faccio questa piccola premessa appunto per dirvi che, dato che non ho il server da, cos'è, 100 persone, inviterò solo alcuni di voi, quindi per chi non si vedesse l'invito subito alle 3 di pomeriggio, alle 15, non si preoccupi, in caso attendete un attimo, fatevi due o tre partite, che poi piano piano vi invito tutti, spero di riuscire a invitarvi tutti. Detto questo, signori, non voglio perdere altro tempo e godetevi il video fino alla fine, ci sarà da divertirsi. Signori, nel video di oggi di Fortnite andremo a fare la One Cest Challenge che mi avete suggerito nei commenti. Per chi di voi non la conoscesse, ma ovviamente la conoscerete tutti, o comunque l'avrete intuita dal nome, l'obiettivo sarà quello di prendere solamente una cesta, la prima che ci capita proprio quella che ci ispira più simpatia, e sperare di trovare armi buone e ovviamente arrivare a fine partita solo con quelle armi. Sarà difficile? Sì, sarà fattibile? No, e faremo molti tentativi. Eh, già mi immagino quanto sclereremo. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commentino, condividere il video, se siete nuovi di iscrivervi e... Iniziamo, incrociate le dita per me. Ho un piano, ho un piano, sì, ho un piano. Voglio andare all'agenzia e aprire il cavo. Vado lì da dietro, lo... Eh, ma è difficilissimo. Oddio, devo trovare un modo. Devo assolutamente trovare un modo per fare sta cosa, perché se apro il cavo è tanta roba. O che vado a pic... Eh, no, ma se piccono midami, mi distrugge. Questi mi distruggono. Ho un altro piano! Ho un altro piano, signori! Guardate qua. Mi camuffo e apro una di quelle ceste strane. Fiii, sono un genio, signori, sono nel 3020, non nel 2020. Vai, 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 master. Sei un genio? Sei un genio? Ehm... No, devo trovare la strada per scendere, quindi nel dubbio me la creo io, la strada per scendere. Non me la son creata. Eh, allora... Gioco, com'è che si scende da sta roba? Ecco, mi apro questo! Perfetto! Dai, dammi una cesta buona! Fide se ho bypassato la challenge! Sì, ci sta! Cioè, oddio! Sì, dai, ci sta! Vedi? Vedi che power up? Eh, signori? Fide, sono fuori di testa, sono un genio. E in più mi spacco pure questi. Bravo, massa! E ora, niente, andiamo a pushare, sostanzialmente... Pushare. Andiamo, mettiamola così. Perché, tra l'altro, se voi distruggete qua, vi trovate direttamente nel cavo... La sapevate questa cosa? Guarda quanta roba... Eh, salve! Salve, salve! Perfetto, è stato un piacere. Ok, ho hittato qualcuno un bel po', ma non so chi. Sì, sì, sì. Tipi conno infame! No! No! Dai, no! No! No, avevo fatto una bellissima cosa! Dai, oddio! We're back, bitches, all'ora! Ce ne potremmo andare allo squalo oppure tornare all'agenzia. Ci stava comunque come cosa l'agenzia? Magari facciamo tutto un one chest... Eh? Sì, dai, ce ne torniamo lì e il piano è sempre quello. Ci camuffiamo, apriamo la cesta e speriamo di portarcela a casa. Sostanzialmente, sperando anche... Tanto in quelle ceste si trova. Di sicuro lo spara bende, quasi sicuramente. Lo scarra e poi la terza... La seconda arma è un po' un'incognita. Poi, io spererei di trovare il pompa, sinceramente. Col pompa potremmo anche portarcela a casa. Solo con l'M4 la vedo dura, sinceramente. Soprattutto guardate quanta gente c'è. Ti prego, non fatemi niente. Io non esisto. Io non esisto. Io non esisto. Guardate qua che bel pompa. Guardatelo qua quanto lo prenderei. Però i colpi li prendo. Quindi siamo travestiti e siamo pure carichi per la challenge. Oh, non ditemi che c'è già gente, eh. No, eh. Eh, no, eh. Allora, facciamo finta di niente, però dietro di noi c'è il casino più totale. Eh, cosa abbiamo trovato? Praticamente il loot di prima. Ok, sto iniziando a pensare che non ci siano i pompa dentro questi cosi, ma lì c'è un tipo. Ok, potrei essere un attimino in panico. Dobbiamo fargli l'agguatone, signori. È l'unica. Agguatone way. Eccolo lì. Dai, ti abbiamo visto tutti, bro. Tata, 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 tata. L'ha ucciso la guardia. Eh, scagnozza eliminato, sì. Ok. Sei stata brava, guardia. Sei stata molto brava. Ok, niente. Allora piano B. Andiamo a cam... No. No. Ok. Piano B. Camuffiamoci di nuovo. Potremmo rompere il generatore, ma sinceramente aiuteremmo solamente gli avversari, quindi anche no. Perfetto. E ora andiamo a picchiare. O a farci picchiare, dipende. Tipo, se noi stiamo qua, quando arriva un tipo ad aprire il bunker, perché in teoria arriveranno, noi lo scassiamo. Salve, signora guardia. Anch'io sono una guardia. Cosa pensa? Non è che le sto mirando la testa tanto per... Sta guardianando bene? Anche lei sta guardianando? Tutto a posto? Posso... Ok, va bene. Allora, non so se ha capito che siamo veri. Muori! Bravo, master! No, guarda che... Allora, prendo la chiave del cavo solo per distruggere i barili. Perché, ovviamente, non posso prendere né ceste né armi. Allora, ne approfittiamo. Muori, 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 muori. Che peccato aprire il cavo e non poter prendere niente. Che peccato! Però, stiamo giocando bene. Questa tattica, signori, ci porterà la gloria. Fatela anche voi, perché è la gloria. Oh, ho sbagliato. Vabbè, non prenderò niente. Curati, curati, curati. E purtroppo dobbiamo dire addio a tutto questo ben di Dio. Fa pure rima. Ce ne andiamo. Ma non prima di aver fatto l'agguatone. Dai che non puoi costruire, non puoi costruire. Stupido, non pu... No, 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 scusa, scusa. Scusa, 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 scusa. Bene. Molto bene. Molto bene. Ah no, c'è gente in elicottero. Perché non l'avevo visto prima? Dai, ti sparo, scendi, zio. Allora, la cosa più giusta sarebbe lasciarlo perdere. Però il mio stile di gioco mi impone di pusharlo e probabilmente morire. Quindi, signori, preparatemi una pushata. Ah, non ci sono più i player di una volta. Oh, no, no, scherzavo. Ok, scusa, scusa, scherzavo, scherzavo, scherzavo. Ho detto. Cosa? No, è fortissimo. Via. Chi cacchio l'aveva notato? Via. Via, via, ti prego, non voglio morire così. No, non voglio morire così. Sono ancora giovane. Più o meno. Chiuditi in bagno. No. Ah 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 ah. Ci ha sgamato il dottor Gabri 08. Dai. Terzo tentativo. Sì, dai, voglio rifarlo. Voglio rifarlo, signori. Carichi, ultimo tentativo e ce la portiamo a casa. Dai, Gabri. Gabri. Ehi, sto facendo la challenge. Che famos teneto. Attento. Signori, sono tornato. Più cattivo di prima e ti prego da. Ah ok, no, ecco perché. No, ma ci ha dato due scars. Dai, non puoi darci due scars. Sa proprio che questo ultimo tentativo, signori, finisce in tragedia. Ma tragedia proprio. C'è un tipo qua sopra, eh. Dai, facciamoci picchiare anche da tutto qua, proprio. Minchia. C'abbiamo pure una jump. Che fatica. Che fatica. Che fatica. Dai. Oh, e Deadpool l'abbiamo ucciso. Poi, avanti un altro. Ora li pusho tutti, non mi interessa. Tutti gli andiamo addosso. Tutti. Come finisce, finisce. Dai. Unite. Non ho paura. No, no, no. Pensavo, scusate, scusate, scusate. Pensavo di essere camuffato. No, 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 no. No, male, male, male. Camuffati. Che imbarazzo. Cosa? Gioco di merda. Gioco buggato. Gioco buggato. Non voglio usare il medikit. Me lo voglio tenere il medikit. Allora, sta facendo il topo nei condotti. Quindi, credo sia nostro dovere fargli l'agguatone. Cioè, per forza. Che fai, non glielo fai l'agguatone. Ah, salve. No, pensavo fosse il tipo. No, aspetta, non ho capito. No! No, 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 no. No, via. Sì, no, non sto capendo niente. Non sto capendo niente. Non ci ho capito niente. Basta. Mi vado a togliere la vita. Addio. Grazie a tutti.